Vi ringrazio per l'invito e sono felice di essere qua con voi. Sono Maddalena Fabri Destro, responsabile del progetto. Purtroppo sono sola, nel senso che Giulia Crifaci, assegnista, non ha potuto essere con noi, così come Antonio Capelluto, che è il responsabile del cinema arsenale, che era il nostro partner. Access significa accessibilità al cinema per persone con autismo e disturbi del neurosviluppo attraverso la caratterizzazione dei profili sensoriali. È l'acronimo che abbiamo utilizzato. Noi abbiamo incluso nel nostro progetto persone con disturbo dello spettro autistico, partendo dal presupposto che proprio in virtù e a causa di questo disturbo, le persone affette da disturbo dello spettro autistico hanno un basso, se non limitatissimo, accesso ai contesti di aggregazione socioculturale. Perché? Perché vengono ispiriti in modo inadeguato, soprattutto perché uno degli aspetti molto presenti in questo disturbo e che negli ultimi tempi si sta studiando sempre di più è la presenza di alterazioni di tipo sensoriale. Quindi l'idea di poter accedere a contesti in cui sono presenti è presente una multisensorialità e quindi un'iperstimolazione di aspetti visivi, uditivi e di altro tipo, preclude a loro e alle loro famiglie l'accesso a contesti di questo tipo. E chiaramente il cinema ne rappresenta l'elemento più caratteristico, senza nulla togliere ad altri contesti, però noi avevamo l'idea di poter creare un progetto o un percorso che potesse tenere conto di una multisensorialità che il cinema sollecita e di poter vedere se fosse possibile attraverso un training prima condotto in laboratorio poter permettere l'accesso a, in questo caso a bambini con disturbo dello spettro, al cinema arsenale. E quindi gli obiettivi erano di tipo sperimentale, chiaramente noi, io sono un ricercatore degli istituti neuroscienze, clinico applicativo perché il nostro partner è un partner, è una collaborazione che nasce grazie a una lunga esperienza con la fondazione Stella Maris, ma anche una possibilità di creare un modello che fosse poi trasferibile ad altri contesti. L'avete già detto, non lo ripeterò io, è stato complicato su vari fronti, da un lato perché la popolazione che noi abbiamo incluso nello studio è una popolazione clinica, quindi l'accesso all'ospedale è stato complicato perché lo sappiamo tutti e quindi la difficoltà di poter includere bambini con una certa frequenza nello studio, l'idea era quella di creare dei percorsi di training, di sensibilitazione verso un contesto che è quello riproducendo il contesto del cinema in laboratorio per poi poter andare al cinema. Siamo riusciti a farlo, quindi ce l'abbiamo fatta alla fine, però ce l'abbiamo fatta con meno bambini di quanti avremmo voluto fare. È stato un progetto che ha visto tante anime, Giulia si sottolineava adesso quanto fosse importante anche per l'assegnista, Giulia ha avuto la possibilità di entrare in contatto con il mondo clinico attraverso la collaborazione con l'IRCS e la fondazione Stella Maris, che non ha bisogno di presentazione e in particolar modo con Antonio Narzisi che è un dirigente psicologo che ha una lunga esperienza e che ci ha permesso di valutare bambini con disturbi dello spettro, quindi Giulia ha passato un periodo in Stella Maris dove effettivamente l'esperimento è stato fatto, grazie alla collaborazione con l'Istituto di Fisiologia Clinica nella figura di Lucia Belleci perché lo studio l'abbiamo focalizzato dovendo tenere presenti i profili sensoriali, avevamo bisogno di una misura che ci dicesse qual era il profilo sensoriale o che tipo di attivazione certi stimoli portavano e Lucia è esperta di segnali neurovegetativi, quindi abbiamo approcciato, sono bambini, quindi non potevamo esagerare con le registrazioni, quindi siamo andati su il neurovegetativo, significa tutte quelle attivazioni che noi abbiamo nel momento in cui o ci spaventiamo o siamo agitati, quindi il cuore che batte in maniera diversa piuttosto che la mano che sude in maniera differente, quindi in maniera non invasiva abbiamo cercato di misurare quanto i bambini fossero coinvolti, fossero sollecitati da un contesto simile a quello del cinema. L'abbiamo fatto con una tecnologia meno avanzata rispetto alla presentazione precedente, però grazie a una mia collaboratrice che si chiama Emilia Scalona, che è una mia ingegnere, che lavora con me e che si è occupata dell'implementazione degli scenari in un contesto di realtà virtuale. Tutto questo chiaramente è stato possibile grazie alla stretta collaborazione con Antonio Cappellupo, responsabile del cinema arsenale, che è una realtà di Pisa e è un contesto culturale molto sensibile alle tematiche che già ha ospitato nel corso degli anni eventi come quello del 2 aprile, che è la giornata mondiale dell'autismo, in cui c'è una sensibilità molto diffusa e molto viva rispetto alla tematica dei disturbi del neurosviglio. Giulia ha potuto viaggiare attraverso i vari contesti, spostandosi e continuando in un dialogo costante con il cinema arsenale, con noi come istituto di neuroscienze per la creazione di questi stimoli, per l'analisi dei dati e la registrazione dei dati con l'Istituto di Fisiologia Clinica e per i pazienti con il Stella Varis. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo utilizzato un visore di realtà virtuale, quindi abbiamo cercato di riprodurre quella che era la sala cinematografica e abbiamo inserito, abbiamo utilizzato anche in accordo con il cinema arsenale, utilizzato soltanto stimoli di natura acustica, questo perché gli stimoli visivi erano troppo complessi per essere standardizzati o per essere gestiti, quindi abbiamo registrato comunque i movimenti oculari di questi bambini perché gli stimoli acustici provenivano da quattro fonti diverse e nel tentativo di capire se la provenienza potesse in qualche modo interferire o agitare in maniera differente o sollecitare in maniera differente il sistema sensoriale di questi bambini. E abbiamo inserito degli stimoli che potevano essere stimoli uditivi che potevano essere ascoltati più di natura biologica diremmo così in un contesto come quello del cinema, tipo qualcuno con i gran occhi di fronte, di fianco, di fronte, dietro o dall'altra parte rispetto a noi o stimoli invece di natura biologica come quello di un telefono. Durante l'ascolto e l'immersività, quindi i bambini potevano navigare in questo spazio che era come se fossero seduti in una sala cinematografica, registravamo la risposta galvanica cioè la sudorazione della mano che è un indice di attivazione quindi di arousal e la frequenza cardiaca. Oltre a questo abbiamo analizzato attraverso una test standardizzati il loro profilo sensoriale. L'obiettivo era quello di capire se un profilo sensoriale particolare avesse un impatto differente o comunque incidesse in maniera differente su quella che era l'esperienza del cinema. Prima fatto in laboratorio, fortunatamente abbiamo ottenuto questo test proprio per via di tutte le restrizioni che siamo stati costretti a vivere ma che tutti hanno vissuto e quindi i primi dati sono stati legati a proprio questi aspetti, una caratterizzazione dei profili dei bambini che hanno dato un insight da un punto di vista clinico e che sono stati rilevanti da quel punto di vista. Il secondo punto è stato quello di utilizzare questi profili. L'obiettivo finale era quello di creare delle condizioni per cui il determinato profilo potesse accedere al cinema in una condizione agevole per lui. Non siamo arrivati fino a quel punto ma siamo riusciti comunque in una caratterizzazione dei profili, in una registrazione di parametri neurofisiologici durante questo contesto immersivo che abbiamo utilizzato grazie alla realtà virtuale e abbiamo coinvolto 23 bambini con disturbi dello spettro autistico chiaramente dopo aver ottenuto autorizzazione del comitato etico e 23 bambini con bambini a sviluppo tipico. Abbiamo incluso anche una popolazione a sviluppo tipico per l'idea di poter confrontare i dati da una parte all'altra. Nella figura che vi mostro è il contesto che abbiamo creato all'interno del laboratorio il bambino indossa questo visore e mentre li vengono registrate le attività cardiaca e la risposta galvanica. Questo ha portato alla pubblicazione di due risultati, di due lavori che riguardano in maniera specifica i profili sensoriali e come questi poi si colleghino poi sia a una popolazione di bambini in età scolare che in un'età prescolare e come questi impattano poi sul loro espressione di comportamento. Questa è stata più una parte scientifica da un punto di vista dei risultati invece neurovegetativi e quindi quelli che sono stati poi quello che abbiamo trovato non inaspettatamente è stata una maggiore attivazione neurofisiologica neurovegetativa dei bambini con disturbo dello spettro autistico se comparati a bambini a sviluppo tipico di parietà e l'aspetto importante e lì ci siamo arrivati anche se in ultima battuta è stato quello di poter portare un sottogruppo di questi bambini che avevano fatto l'esperienza in laboratorio quindi dentro l'ospedale e di realtà immersiva e quindi avevano avuto una sorta di familiarizzazione con il contesto che poi diventava un contesto reale grazie alla creazione all'interno del cinema di uno spazio dedicato a loro e quindi loro hanno potuto andare in un giornata che è stata decisa con i responsabili del cinema hanno potuto andare, abbiamo scelto un cortometraggio che potesse essere facilmente tollerabile da loro quindi che potesse essere non troppo lungo, gli è stata data la possibilità di avere a disposizione la sala nella nostra idea iniziale dovevamo avere un coinvolgimento superiore non soltanto di bambini ma anche di persone e quindi l'idea era quella di invitare anche tutta la classe però era troppo complicato riuscire a fare tutto volevamo però testare quanto avevamo visto in laboratorio e quindi una parte di questi bimbi è potuto andare con disturbo dello spettro è potuto andare al cinema insieme alle loro famiglie e abbiamo visto che c'è stato effettivamente un cambiamento in laboratorio l'attivazione seppur differente rispetto ai bambini con sviluppo tipico è stata vista ma era ancora maggiore in un contesto reale quindi il cinema effettivamente sollecita in maniera differente e più attivante questi bambini che però hanno avuto un aspetto molto rilevante che nonostante questa arousal, questa attivazione che avevamo visto in laboratorio che era potenziata nel contesto reale gli ha permesso ugualmente di avere un comportamento adattato adatto e adeguato al contesto del cinema questo è stato un dato rilevante per noi perché questo, nonostante lo stress legato al contesto questi bimbi che erano già stati esposti a una condizione di laboratorio non reale hanno potuto comunque usufruire insieme alle loro famiglie di una visione di un cortometraggio sembra una cosa banale ma in realtà diventa una cosa molto, è molto rara per loro quindi non siamo riusciti a fornire degli ausili che però abbiamo permesso loro di portare al cinema e quindi ognuno di loro portava quella pezzuola piuttosto che quel peluscio o quelle cuffie che gli permettevano di poter vivere quel contesto in maniera adeguata quindi la nostra conclusione stiamo continuando ad analizzare i dati purtroppo Giulia ha cambiato lavoro quindi non è più, non fa più parte della squadra stiamo comunque continuando nell'analisi di questi dati con l'idea che l'esposizione a questi stimoli immersivi e acustici quindi questa simulazione di un contesto che sarà poi il contesto reale ha agevolato la loro capacità di fruire della proiezione di questo cortometraggio che è durato dieci minuti ma era già tanto e gli ha permesso di stare al cinema e di poter andare al cinema con le loro famiglie quindi devo dire che Access ci ha dato la possibilità di attraverso questa triangolazione tra una parte più scientifica che fa parte della nostra natura come istituto di neuroscienze una parte clinica ma anche finalmente una ricaduta una messa a terra di quelle che sono solitamente i risultati delle nostre ricerche ci ha permesso di proiettarci in una condizione futura perché il progetto sebbene sia finito sebbene la segnista non sia più con noi però lo porteremo, lo stiamo concludendo e con l'idea di poter creare dei percorsi di inclusività per le persone con disturbo dello spettro autistico per le loro famiglie banalmente anche riservare una coltrona in uno spazio diverso in uno spazio della sala che permette poi l'uscita o l'andare avanti e indietro questo sarebbe già tanto però è possibile soluzioni integrate applicabili anche ad altri contesti socioculturali perché quello che è l'esperienza nostra del cinema può essere tranquillamente l'esperienza di un altro contesto pensate per esempio a quello di un museo e l'idea ancora più in avanti questa che però strizza l'occhio alla parte più clinica la possibilità di estendere questa esperienza anche ad altri disturbi del neurosviluppo che hanno una preclusione per natura differente e non per è legata alle caratteristiche tipiche del disturbo per poter accedere ad altri contesti il cinema arsenale per noi è stato un elemento importante perché è stato un dialogo costante non abbiamo potuto andare da subito al cinema per varie questioni da un parte il covid dell'altro a lavori di ristrutturazione quindi comunque andavamo ma il dialogo ha continuato e ha continuato ad esserci la senista ha vissuto i diversi ha potuto viaggiare nei diversi ambiti clinico, sperimentale, neurofisiologico e anche culturale arricchendosi da questo punto di vista e permettendo di portare a termine questo progetto direi che i 15 minuti sono scaduti quindi io vi ringrazio per l'attenzione e ho finito grazie a tutti